A distanza di dieci anni dalla scomparsa, il ricordo di Carlo Rambaldi ancora vivo nel suo territorio di origine, il ferrarese, il 10 agosto 2012 ci lasciava all'età di 86 anni Carlo Rambaldi, l'artista che tutti conoscono come il papà di Eti. Rambaldi nacque nel 1925 a Vigrano Mainarda e dopo aver girato il mondo si spense alla mezzia terme nel calabrese, località dove abitava da una decina d'anni. Laureatosi all'Accademia di Belle Arti di Bologna, aveva iniziato a frequentare gli ambienti cinematografici nel 1956 quando per il film Siegfriedo realizzò il drago Fafner. Successivamente lavorò in Italia con i registi più importanti, da Monicelli a Ferreri, da Pasolini a Dario Argento. Fu l'incontro con Hollywood che gli consentì di realizzare effetti straordinari mescolando meccanica ed elettronica, innumerevoli premi e riconoscimenti ottenuti a livello internazionale e su tutti i tre premi Oscar per i migliori effetti speciali, il primo nel 1976 con King Kong, poi nel 1979 con Alien e infine nel 1982 per quello che è stato certamente il capolavoro di una carriera etile extraterrestre di Steven Spielberg che commuove ancora oggi la fiamma del suo ricordo non si è mai affievolita.